Ok, Burger King Drive Thru, eccolo qua, entriamo, bene bene bene, ok, allora, vediamo che cosa possiamo mangiare, cibo e bevande, bene, allora io penso di prendere due numero 9, un numero 9 grande, patatine con extra salsa, un hot dog numero 7, due numero 45, uno con il formaggio per favore, e anche una soda grande, benissimo, perfetto, ok, grazie, grazie, arrivederci, preso, parcheggiamoci qua vicino a questa Mercedes, salve a tutti ragazzi, siamo qui con un nuovo video, in questo video continueremo a stare sulla, no, non ce la faccio, aspetta, ok, non ce la faccio, devo assolutamente cambiarmi i vestiti, non posso, non posso, cioè, ragazzi, queste sono le mod che stanno uscendo adesso per GTA 5, per Franklin, per i vestiti, è assurdo, ok, saranno cose di moda e anche molto costose, ma, cioè, aspettate, non avete visto neanche la cosa migliore di tutto questo outfit, è che questi sono occhiali da sole e da vista, e adesso sono occhiali da vista e non da sole, cioè, non ci posso credere, ragazzi, ok, vabbè, allora, due cose sono il problema, un problema è gli occhiali e questa maglietta che diamine, guardate dove cavolo arriva la maglietta sotto la felpa, datemi il tempo un secondo di cambiarmi e poi possiamo iniziare l'episodio, Ok, molto meglio, dove eravamo rimasti, ragazzi? Allora, sì, quindi, in questo episodio continueremo la serie sulla mod della Viterale, nello scorso episodio, ragazzi, abbiamo scoperto una cosa molto, molto importante, innanzitutto abbiamo fatto una sorpresa fantastica ad Anna, ti abbiamo fatto una sorpresa in casa con palloncini e la nostra presenza, che non era scontata, purtroppo, come abbiamo visto, e secondo, abbiamo avuto una bellissima, bellissima notizia, hanno trovato la persona, l'attentatore che è responsabile dell'attentato del matrimonio di Sara e soprattutto anche dell'incidente alla mia macchina, quindi, in realtà, non è stato lui, ma quello lì era solamente un sicario, la persona dietro questa tragedia, purtroppo, è scappata e la stanno cercando gli agenti dell'FBI, come sappiamo l'agente Sanchez, che è la gente che si sta occupando del caso di Marco e di Anna, anche quando noi eravamo scomparsi, quindi, detto ciò, ragazzi, adesso, quello che faremo in questo episodio sarà passare del tempo con Anna, perché, effettivamente, diciamo che questa nostra separazione forzata ci ha uniti ancora di più, cioè, nel fatto che lei mi cercava che non mi trovava più, perché, naturalmente, ero stato, diciamo, nascosto da questo criminale nella clinica segreta, aspettate che mangio un secondo che ho fa... Ok, adesso... Oh, benissimo, adesso non ho più fame, benissimo. Tutto questo ha fatto sì che noi fossimo ancora più uniti, quindi adesso passeremo una giornata intera insieme. Ora, ragazzi, no, non ordino altro cibo, perché ho ordinato così tanto che sto scoppiando. Appunto, proviamo ad andare in questo momento a semplicemente... Oh, ok. Ah, ragazzi, aspettate un secondo che Anna ha ricevuto un messaggio al telefono. Ok. Wow, no, non ci credo. Non ci credo. Ragazzi, è finita. Ok, vi stavo facendo l'intro adesso e parlando del caso, e l'hanno trovato. Hanno trovato la vera persona, il vero criminale dietro tutta questa faccenda, la persona che ha ucciso Marco, e la persona che vuole me morto, e probabilmente Anna o Sara, o non si sa chi vuole morto questo tizio. Sapevano tramite l'identikit che aveva fatto il tizio che avevano... che abbiamo visto nello scorso episodio, che avevano torturato, per avere le informazioni, hanno avuto il nome, hanno avuto tutto, dovevano solamente cercarlo. A quanto pare, da quello che ci ha scritto adesso, e da quello che ha scritto ad Anna, l'agente Sanchez, hanno passato la notte in elicottero, e anche questa mattina, e l'hanno trovato, con la telecamera dell'elicottero, che stava praticamente passeggiando in giardino, era in giardino, non so se stava prendendo il sole o passeggiando. Le hanno scritto solo che era in giardino, e che era in una delle sue tante proprietà. Come se non fosse nulla, era praticamente nascosto dentro casa, come se gli agenti dell'FBI non cercassero dentro casa. L'hanno subito trovato e corrispondeva al suo identikit. Quindi, inoltre, nel messaggio ci ha anche rilasciato un indirizzo, che adesso probabilmente sarà l'indirizzo che andremo, perché quello che ha scritto è che lui, appena ha trovato il tizio, ha semplicemente chiamato tutte le autorità e altri agenti ancora, e poi ha scritto il messaggio ad Anna. Quindi, sono notizie fresche e fresche, ragazzi. Quindi, detto ciò, probabilmente ci saranno ancora i poliziotti, e probabilmente, dato che ha l'attenzione dei media, visto che, da quello che sembra, è una persona famosa, ed è una persona che non ha fatto del male solamente a noi, ma ha fatto già del male in passato, quindi ci saranno, ovviamente, i giornali e le TV, e probabilmente, anche, sarà pieno, pieno di poliziotti. Ragazzi, cerchiamo di arrivare più velocemente possibile, perché voglio vedere il momento in cui prendono questo famigerato nemico pubblico, praticamente, soprattutto criminale, verso i nostri confronti, che noi siamo i protagonisti di questa vicenda. Quindi, bando alle ciance, vediamo l'indirizzo che ci ha dato nel messaggio ad Anna, del telefono. Quindi, a quanto pare, si trova Belair, al numero 4522. Ok, 4522, dovrebbe essere qui, ragazzi. Penso che sia qua, da qualche parte, forse qui. Quindi, dobbiamo fare uno stradone, perfetto, un viale, e ci siamo. Bene, finalmente, mi sa, forse, che siamo alla fine di questa storia. È finita questa tragedia continua, diciamo, perché prima c'è stato l'attentato, poi c'è stato il nostro incidente, poi siamo scomparsi, veramente un disastro. Per colpa di questo criminale, che non si sa che cos'ha nei nostri confronti. Lo scopriremo oggi, ragazzi. Vedremo chi è e vedremo qual è il problema. Quindi, senza indulgere troppo, direi che saltiamo il traffico, perché è veramente, oggi, veramente pesante in questa città. E ci vediamo una volta che siamo arrivati alla sua casa. Intanto, il meteo ci ha appena mandato un messaggio al telefono che ho scritto che i cieli saranno completamente chiari per le prossime ore. Speriamo, perché qua mi sembra un po' nebbioso, diciamo. Un po' nuvoloso, forse. Quindi, speriamo che si apra un po' il cielo, dato che oggi sembra iniziare con il piede giusto la giornata. Ragazzi, l'indirizzo di questa casa sembra veramente una zona di ultra ricchi, e soprattutto di una villa che sarà una residenza, una delle migliori in città, perché, come vedete, la zona è Bel Air, e non è affatto... Cioè, ci sono solamente villone qui. Penso che siamo arrivati. Ora, hanno sbarrato completamente tutto, probabilmente perché è veramente pericoloso questo tizio. Da quello che vedo, non c'è neanche parcheggio per noi. Tutta la gente mi sa che deve fare un'inversione. Proviamo a lasciare la macchina qua. Vieni, Anna, scendi con me. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Come vedete, ha veramente l'attenzione di tutti i giornalisti, dei media, perché, come vedete, è pieno di gente. Ora, salve, agenti. Non so se si può passare, ma salve, agenti. Io sono il protagonista, praticamente, di questa vicenda. Ok, questo non mi sta neanche ascoltando. Anche se passiamo avanti, non mi dice niente nessuno. Andiamo avanti. Wow, addirittura un elicottero con gli SWAT. Qua si parla di qualcosa veramente di pesante. Guardate quanti agenti dell'F5B ci sono, ragazzi. Ma quello che sto cercando io, in realtà, sono due persone. Eh, sia Sara, perché dovrebbe esserci anche Sara da qualche parte, e anche, soprattutto, questo criminale, perché voglio assolutamente vederlo quando lo incarcerano e quando lo portano fuori dalla sua residenza. A calci, probabilmente. Adesso, ragazzi, penso che sia pieno di SWAT, ma forse, dato che l'agente Sanchez era la persona che aveva, lui, il compito di scovare questo nemico, probabilmente è lui quello che lo incarcererà. Quindi penso che sia dentro la residenza. Vediamo se riusciamo ad entrare in qualche modo. Boh, eh... Oh, ragazzi, aspettate. Ho visto Sara, ho visto Sara. Ciao, Sara. A quanto pare, hai visto, hai sentito la notizia. Sembra molto più felice, anzi. Molto più serena, ragazzi. Guardate, anzi, quasi, quasi è carina oggi rispetto agli altri giorni. Guardate un po'. Quindi, hai visto, hai sentito. Adesso vado subito a vedere chi è. Se vuoi puoi fare il giro ed entrare, che non dicono niente, infatti. Ci sono solamente un sacco di macchine fotografiche, flash, ok, delle persone che non so perché bevono e fumano. L'è in mezzo, ma proviamo ad entrare. Salve, agenti. Voglio provare a vedere di nascosto, magari, perché non voglio assolutamente interferire con i vostri lavori, ma a vedere semplicemente... Ok, mi metto dietro quell'albero, che ne dite? Mamma mia, questa è veramente una delle ville più belle che abbia mai visto. Cioè, avviciniamoci ancora un po' all'albero, magari. Così riusciamo a vedere meglio la scena vicino a questo giardiniere, che a quanto pare lo hanno lasciato spazzare le foglie qua, nonostante sia succeduto... Ok, ragazzi, mi pare di vedere l'agente Sanchez, sì. Penso che quella sia la descrizione esatta che mi ha fatto Anna dell'agente Sanchez. Vediamo un po' la scena, vediamo che cosa succede. Stanno parlando, mi pare, adesso. È un vecchio, perché ce la dovrebbe avere con me? Ma chi diamine è sto tizio, ragazzi? Non mi pare di riconoscerlo qua da lontano, però magari lo riconoscete voi, io non ne ho idea. Ok, mi pare che stiano parlando, vediamo se succede... Ok, sta succedendo qualcosa. L'ha ammanettato, ragazzi, mi sa che l'ha buttato a terra e l'ha ammanettato con la forza. L'ho sollevato di peso, ragazzi! Lo sta portando via di peso! Lo sta portando nella macchina di... Non ci posso credere. Ok, l'ha messo in macchina. Oddio, come fosse un peso morto! Ok, ragazzi, adesso sta tornando verso di qua. Probabilmente penso che vada in centrale adesso. Ora che se ne sta andando... Penso che lo dovremo seguire, quindi aspettiamo che... Ok, cosa sta succedendo qua? Sento la sia... Ok, un sacco di poliziotti si stanno smuovendo. Per quale motivo? Forse c'è un attacco. Scappo, scappo, scappo. Cerco di scappare più velocemente possibile perché non ho capito cos'è successo. Ho sentito un sacco di spari. Speriamo che Anna non sia convolta. Non ho capito se c'è stato un attacco di uno dei sicari di... Di questo tizio che è un vecchio. Non so per quale motivo mi ha odiato. È lui che ha cercato di uccidermi, ok? Anna, quanto pare, non c'entra niente. Guardate, ci sono ancora persone che cercano di scappare. Anna, vieni dentro. Sali perché dobbiamo correre. Andiamo alla stazione di polizia a parlare, probabilmente, sia con l'agente Sanchez, che adesso lì si potrà finalmente, quando si saranno calmate le acque, che a vedere questo criminale che, ragazzi, a quanto pare è lui. La persona è lui. E tutti i nostri incubi erano lui. Seguiamo l'agente Sanchez per quello che c'è possibile. Si trova qua davanti, davanti a me adesso. Ora, non so per quale motivo non è scortato dalla polizia. Ci dovrebbero essere tipo 800 agenti a seguirlo. Ragazzi, adesso andiamo alla stazione di polizia. Non stiamogli neanche troppo vicio. Ho appena saltato tutti quanti e andato via col rosso. Sì, a quanto pare sì. Quindi, magari, forse perché lui può correre e saltare, magari passare con il rosso, eccetera, eccetera. Noi non lo facciamo, sennò ci arrestano veramente. Ormai è stato arrestato, almeno per qualche anno. Si spera che non esca di buona condotta, ma per qualche anno probabilmente non ci potrà più assolutamente importunare. Si spera. Che cosa diamine sta facendo questa signora? Anche questa è pazza. Dato che sono tutti rossi i semafori, direi che raggiungiamo la stazione di polizia e ci vediamo una volta che siamo arrivati. L'avete visto anche voi, più o meno bene? Non ho capito chi è. Cioè, voi avete un'idea di chi sia nella serie? Di chi abbiamo mai incontrato una persona del genere? Io non mi pare di aver incontrato mai un vecchio, soprattutto di non averlo mai importunato. Ora, potrebbe essere la famiglia di quella persona che abbiamo ucciso quando siamo finiti in galera. Oppure potrebbe essere qualche nostro datore di lavoro, di tutti i lavori che abbiamo fatto, che per qualche motivo gli abbiamo fatto un torto. Non lo so, se avete in mente qualcosa, se ci penso, a quel volto non mi è affatto familiare. Però magari poi riguardandolo da vicino ci viene in mente, non lo so. Ci siamo, siamo alla stazione di polizia di Los Santos, quella cento. Ok, dovrebbe essere questo. Ah, il suburban che stava guidando l'agente Sanchez. Sì, mi pare che sia quello l'agente Sanchez. Quindi, direi che parcheggiamoci nei parcheggi questi qua, quelli normali. Ok, le linee sono perfette. Qua si dovrebbe poter parcheggiare, penso proprio di sì. Ragazzi, Anna, scendi un secondo. Voglio prima andare a parlare con l'agente Sanchez per scoprire e chiedergli che cosa è successo a Michael. Perché penso che lui sappia che cosa è successo a Michael. Quindi, penso che abbia già accompagnato in cella, dato che non lo vedo da nessuna parte, non penso che sia neanche dietro il criminale. Ragazzi, vediamo. Ok, salve, salve. Salve, agente Sanchez. Le vorrei porre alcune domande. È lui vero l'agente Sanchez? Perché non mi risponde. Sì, è lui. Scusi, mi potrebbe ascoltare un secolo? Potrebbe scendere dal veicolo? Mi perdoni, eh? Ok, bene. Innanzitutto la ringrazio per quello che ha fatto per noi, perché lei era la persona dietro il caso e non l'ho mai sottovalutata. Non è riuscito a trovarmi. Anna, sei riandata da lui quando ero scomparso, ma non è riuscito a trovarmi, però almeno qualcosa è stato risolto. Quindi, l'unica domanda che ho io per lei oggi, perché tutto il resto lo scoprirò direttamente dal criminale, che andrò a parlare, se è possibile, se lei me lo consente. Ma quello che voglio chiederle è, quando ho avuto l'incidente, ero assieme a Michael, mi può dire, per favore, che fine ha fatto? Perché non l'ho trovato da nessuna parte. Lei ne sa qualcosa? C'è qualcuno che ha chiamato degli agenti privati, quindi delle specie di spie, più o meno, per controllare noi, e questo sappiamo già che è stata Sara, nello scorso episodio l'abbiamo incontrata e ce l'ha detto lei, che hanno controllato tutta la situazione, hanno portato sia me che Michael in due posti diversi e in due posti segreti. Io ero in una clinica e lui non so in che posto era, non me lo sa dire neanche la gente, perché non è stato lui, sono stati questi agenti privati che non hanno nulla a che fare con l'FIB, ma si tengono spesso in contatto. Quindi lui adesso sa che dato che è stato catturato questo criminale, Michael Townley verrà trasportato e trasferito da quell'ospedale in cui si trova adesso, che è in condizioni critiche, ma è vivo, fino a un ospedale centrale qui di Los Santos, quello normale, quello in cui adesso non ci saranno più attentati a lui, quindi teoricamente non dovrebbe essere in pericolo. Ragazzi questa è un'ottima notizia perché potremo andare a visitare Michael, che si troverà appunto qua, sappiamo adesso dov'è più o meno, verrà trasferito nei prossimi giorni immagino, quindi la ringrazio ancora di tutto il lavoro che ci ha fatto e tutto ciò che ci ha dato. Adesso vado a vedere dov'è il fuggitivo. Quindi vieni che andiamo a vedere che cosa ci sa dire quel criminale, chi è soprattutto, e finalmente finiremo questa storia, perché sono veramente muoio dalla curiosità adesso di sapere chi diamine è. Corri, corri, vieni, anche tu immagino, corri. Ragazzi siamo dentro la stazione di polizia di Los Santos, Ah, vediamo dov'è l'entrata per le celle, non lo so in realtà. Non è qua, non è qua, torna dentro che non è qua, non so dove diamine si accede. Mi sa che lo devo chiedere all'agente Sanchez perché non... Uh, ok, mi ha detto di seguirlo, non so per quale motivo sta correndo ma sì, la seguo. Le corro dietro ancora un po', sembra che stiamo facendo una maratona, dai. Ah, ok, di qua probabilmente si accede da dietro, ok, bene, bene. Tanto il meteo ci ha mandato un'altra notifica, ci sarà un po' di nebbia mi sa, ok, qua? Ah, eccolo qui, perfetto, grazie. Quindi, ragazzi, ci siamo. Dato che muoio dalla curiosità, entriamo dentro e vediamo, anche Anna l'aspetterò dopo però, vediamo che diamine... City of Los Santos, fondata, ok, quello è lo stema della polizia. Sono prontissimo, vediamo chi diamine è. Ok, eccolo qua. Oddio, vi viene in mente? Oh mio Dio, forse so chi è ragazzi. No, non ci posso credere. Mi è venuto in mente adesso, sapete? Oddio, ok. Probabilmente l'avete visto tutti l'episodio in cui sono stato arrestato, che finivo in prigione. Non so se vi ricordate, ma lì era veramente un casino. Tutti cercavano di ucciderci, tutti ci cercavano di picchiare, solamente perché eravamo nuovi in quella prigione e perché non facevamo parte di una gang. Quindi abbiamo dovuto far parte di una gang, non so se vi ricordate bene nell'episodio, ma c'era. E una volta, quello che è successo, eravamo ai campi di basket, mi ricordo. Era pieno di gente armata, di coltelli e altre cose. Le guardie non dicevano niente. Questo qui mi pare che... Mi pare che abbia iniziato lui. Ragazzi, adesso ve lo metto in overlay qua nello schermo. Vi ricordate? Era esattamente lui. E' proprio lui. L'abbiamo picchiato, adesso mi ricordo ragazzi, l'abbiamo picchiato, lui è finito a terra. Io ho detto, non so se questo tizio qua è morto o meno, perché vi ricordate non si alzava più. A quanto pare l'abbiamo denigrato in quel momento lì e gli abbiamo fatto del male probabilmente. Sarà finito anche in infermeria, io pensavo fosse morto. Non ci abbiamo più badato ed era esattamente lui. Ma questo addirittura ha mandato i sicari ad ucciderci adesso. E' finito lui in galera. Vedete? Ha manettato qua dietro la cella. Quindi probabilmente ha iniziato lui, ma non mi ricordo. quindi andate a vedere il video che l'ho messo qua sulla I, in alto a destra, per capire bene chi diamine era e perché, che cosa è successo, per quale motivo mi odiava tanto e adesso finalmente l'ho capito. Quindi lui, ragazzi, è l'artefice dell'attentato al matrimonio di Sara. Lui ha ucciso Marco, ci ha praticamente mandato un camion addosso alla macchina e ci ha quasi fatto morire. Ci ha separato da Anna e soprattutto ferito anche Michael. Quindi finalmente questa storia è finita. Proprio in questo episodio è terminata e il tizio è... Adesso aspettiamo Anna che voglio che anche Anna lo veda qui in galera e con le manette. Diamine, ci sta mettendo... Oh, eccola qua, eccola qua. Guarda, è lui. Anna è lui. Ti presento il nostro criminale. Ed eccolo qui dietro le sbarre. Finalmente, guardate, è molto molto pentito dalla faccia. Quello che gli succederà adesso non sarà affatto positivo. Ora, lui lo sa benissimo com'è nelle carceri perché eravamo in carcere insieme, eh? Ci sei già stato. Quindi adesso probabilmente la pena sarà molto maggiore dato che è la seconda o più di un... Dile, la seconda volta che finisci lì. anche se avrai un sacco di soldi e probabilmente ti potrai pagare la cauzione ma non penso che per questo ci sia la cauzione. Poi se in questo stato è ancora legale la pena di morte forse, forse questo è il caso che te la prendi, eh? Hai ucciso Marco e tutte le altre persone che erano a quel dannato matrimonio e tu poi hai cercato di uccidere anche me quindi ti meriti di stare in quella posizione. Possiamo uscire. Vieni Anna, usciamo. Questo qui ormai non è più degno della nostra attenzione non è mai stato però prima soprattutto ora è anche colpa mia perché ero io che l'ho picchiato e gli ho fatto veramente del male lì ma era una situazione molto delicata eravamo nuovi e ci stavano cercando di uccidere tutti quindi è stato uno sbaglio però è stato quello che è stato e nelle carceri soprattutto. Quindi mangiamo qualcosa perché sto veramente morendo di fame e di sonno dato che ragazzi se ci pensate adesso è già mattina quindi mangiamo qualcosa perfetto anche un nego chaser che di solito dà molta energia a quello ok perfetto infatti come vedete ripristinato almeno un po' il sonno mi ha dato un po' di energia quindi grazie ancora gente Sanchez per tutto quello che ha fatto questa storia ormai finita possiamo dedicarci altro quindi adesso penso che l'ultima e unica cosa che rimanga da fare appunto mandare un messaggio a Sara e farle sapere che cosa è successo e probabilmente darle l'addio che d'ora in poi non penso che ne parleremo mai più quindi facciamole uno squillo e diciamole se sveglia speriamo di sì e diciamo che cosa è successo ok vediamo se risponde ragazzi sembra di no oh ok sì oh ciao ciao Sara volevo dirti che sono adesso alla stazione di polizia e ho visto chi è stato so chi ha ucciso Marco e tutto il resto purtroppo devo darti una brutta notizia questa persona è colpa mia se è morto Marco e tutti gli attentati che ci sono stati la persona in questione era uno che era in prigione con me ti ricordi quando sono andato in prigione te l'avevo raccontato e l'avevo l'avevo spicchiato gli avevo fatto del male era in un momento molto critico e questo qua ha voluto vendicarsi cercando di uccidermi in tutti i modi ora lui pensava che io andassi al matrimonio al tuo matrimonio con Marco però purtroppo gli è andata male e non mi ha ucciso quindi ci ha riprovato con l'incidente gli è andata male la seconda volta e quindi è stato preso detto ciò questa situazione è tutta risolta quindi niente spero che avrai una bella vita felice e arrivederci ciao bene fatto ragazzi abbiamo finito direi che possiamo terminare qui con questo bellissimo non è un tramonto questa è un'alba quindi grazie a tutti della visione ragazzi mi raccomando iscrivetevi se volete nuovi episodi nella seconda stagione ce ne saranno di molti ora si comincerà di nuovo una vita normale molto più da vita reale si rinizierà a lavorare cercheremo un nuovo lavoro o continueremo quello da camionista inoltre ragazzi compreremo delle nuove auto come vi ho già detto nello scorso episodio quindi vi ricordo che dovete andare su flickr che è in descrizione lì potete vedere alcuni screenshot di auto che sto considerando alcune che mi avete detto voi di comprare e che non so se comprerò e alcune invece che proprio le sto guardando io per rimpiazzarli con le due che abbiamo adesso sappiate che mi servono per forza due veicoli uno familiare e uno magari sportivo anche solo uno familiare va bene però comunque ragazzi giusto per darci quella sportività in più che ci serve che vogliamo inoltre in descrizione c'è il link per comprare questo gioco e anche la mia maglietta e la mia felpa ufficiale ragazzi per poterle indossare e dire che avete visto questa serie che siete dei miei fan inoltre potete seguirmi su instagram e facebook dove pubblico sempre novità e anche sul canale telegram ad esempio la cosa di flickr l'ho postata prima di tutto sul canale telegram quindi detto ciò ragazzi direi di terminare qua anche questo episodio ci vediamo martedì grazie ancora della visione arrivederci questo dovrebbe essere la gente che dice anna quindi la gente sanchez a quanto mi ha detto a quanto mi ha detto